La Grecia ha detto no nel referendum voluto dal governo di Alexis Tsipras contro l'Europa. I seggi chiusi alle 18 italiane di domenica e con le tv greche che sin dai primi exit pool hanno confermato la vittoria schiacciante del no con il 60% dei voti rispetto al 39% di chi aveva votato sì. Ora si profila una fase delicatissima nei rapporti fra gli ellenici e l'Unione Europea che si era apertamente schierata contro Tsipras, in particolare la Germania con la Merkel che aveva usato parole durissime nei confronti del Premier e volerà lunedì a Parigi per parlare con Hollande nella situazione. Già nelle prossime ore il ministro ellenico Varoufakis si incontrerà con i vertici delle banche greche per chiedere alla BCE un intervento di emergenza. I principali governi europei esamineranno il voto. Per l'Italia Renzi ne parlerà con il titolare del di Castero, Padoan.